buonasera a tutti è il 30 novembre sono le 16 in punto cominciamo questa diretta del venerdì pomeriggio io sono rientrato a milano come potete vedere dal diciamo dallo sfondo dietro di me dopo appunto la settimana una lunga settimana di parlamento tra l'altro in parlamento i miei colleghi stanno ancora lavorando in commissione bilancio sulla legge di bilancio che appunto arriverà in aula la prossima settimana poi avremo sicuramente modo di parlarne in modo molto diffuso nei prossimi giorni nel frattempo come al solito prima di entrare nel vivo della nostra discussione mi raccomando di pigiare la freccetta che vedete qui sotto dove c'è scritto condividi in modo tale da poter invitare quante più persone alla nostra diretta e poi ovviamente per poter vedere il video di questo nostro incontro nel caso non foste non ce la faceste a vederlo in diretta non c'è nessun problema potete vederlo e condividerlo anche dal canale youtube dal sito idonscalfarotto.it e da questa pagina facebook ma cominciamo subito con le ultimissime novità l'istat ha dato i dati del terzo trimestre e appunto della crescita del nostro della nostra economia e purtroppo non si tratta di crescita ma si tratta di decrescita dopo quattordici trimestri consecutivi di crescita della nostra economia sebbene una crescita moderata più lenta di quella che avremmo voluto vedere ufficialmente l'economia italiana ha messo la marcia indietro è un segnale molto preoccupante secondo me perché segnala anche un'inversione di tendenza in un qualche in un qualche modo appunto dopo anni nei quali con i nostri governi l'economia era andata avanti eravamo avevamo preso il paese in una fase di recessione avevamo finalmente lo avevamo rimesso in marcia l'economia appunto si ferma quali sono le ragioni ma io penso che sia un mix tra due cose da un lato le misure che sono state annunciate appunto in legge di bilancio sono misure che non vanno a sostenere la crescita del paese sappiamo che il paese si appresta a varare il governo la maggioranza si appresta a varare per il nostro paese una crescita fatta diciamo una spesa fatta in deficit molto forte sapete c'è il famoso 2,4% poi vedremo come andranno le trattative con la commissione europea ma insomma questo è il dato e soprattutto sappiamo che questa spesa aggiuntiva viene sostenuta sostanzialmente per la spesa corrente cioè non ci sono spese importanti in termini di investimenti o di misure volte a sostenere la crescita a produrre occupazione sappiamo che le voci principali sulle quali il governo sta lavorando sono il reddito di cittadinanza che certamente non è una misura che favorisce la crescita per quanto il movimento 5 stelle provi a descriverla come una misura di avviamento al lavoro è una misura assistenziale che serve sostanzialmente a fare in modo che la gente resti a casa nel migliore dei casi perché ovviamente c'è tutto il tema del nero che insomma la quale non voglio entrare in questo in questo momento e poi da parte della della lega c'è quota 100 quindi la possibilità per le persone di andare in pensione prima anche qui non c'è nulla che sostenga la crescita la terza voce la flat tax quindi la riduzione della pressione fiscale sappiamo che non esiste perché nei dati stessi che il governo ha messo a disposizione a contorno diciamo a illustrazione della manovra di bilancio sappiamo che la pressione fiscale è prevista diciamo così inalterata che non si muova da dove è al 41,8 per cento e sappiamo anche però che per quanto riguarda le imprese c'è un aggravio si parla di appunto i calcoli sono stati fatti dall'ufficio parlamentare di bilancio di 6 miliardi in più di tasse a carico delle imprese quindi anche in questo caso non c'è nessun intervento che sostenga la crescita e quindi da un lato c'è la manovra però io non posso non ricordare anche che le dichiarazioni che sono state fatte in questi mesi dai principali vertici politici ed economici del governo quindi dal presidente del consiglio dal vicepresidente del consiglio salvini e del ministro sviluppo economico di maio così si chiama sviluppo economico ma come abbiamo visto l'economia non si sviluppa decresce questo per dire poi quanto efficace è il lavoro di di maio e diciamo le dichiarazioni di savona e compagnia bella tutte le cose che abbiamo sentito hanno anche io credo innescato un meccanismo di sfiducia negli investitori e negli imprenditori e questo non può non aver avuto un effetto sui numeri di cui stiamo parlando è chiaro che quando si scoraggia gli investitori a investire sul nostro paese e gli imprenditori che tutti i giorni investono le loro imprese a continuare a farlo perché lo scenario economico viene dipinto nel modo in cui è stato dipinto è chiaro che si assiste a una contrazione dell'economia se a questo aggiungiamo effetti che vedremo ancora di più legati appunto che che ne dica la castelli al maggior costo dovuto che è necessario per poter ottenere credito dalle banche quindi per poter ottenere fondi a disposizione delle imprese è chiaro che questo circolo vizioso questa specie di vortice negativo nel quale probabilmente siamo entrati e il dato istat è il primo segnale di tutto questo non può che indurre una notevolissima notevolissima preoccupazione quindi questa è la prima cosa che volevo dire dato ufficiale dell'istat meno 0,1 quindi l'economia italiana rientra ufficialmente in campo negativo. Di che cosa volevo parlarvi poi? In questi giorni c'è soltanto l'imbarazzo della scelta ma insomma volevo segnalare questa vicenda sulla quale hanno lavorato i miei colleghi Luciano Nobili e Alessia Morani delle famose tessere in stampa per il famoso reddito di cittadinanza famoso ormai famigerato reddito di cittadinanza. Luciano Nobili e Alessia Morani i miei colleghi parlamentari deputati ieri sono andati al ministero del lavoro per saperne di più perché avete visto che c'è stato un annuncio del ministro Di Maio che diceva stiamo stampando 5-6 milioni di tessere poi la ineffabile non so ormai come definirla Laura Castelli andata da Lili Gruber a dire che si stavano stampando delle tessere ma dicendo che non si poteva sapere chi lo faceva e perché poi c'è stato un annuncio che queste tessere sarebbero state stampate dalle poste che tra l'altro sono una SPA quindi non è che uno improvvisamente fa stampare 6 milioni di tessere a una SPA senza una gara, un appalto, senza un bando, niente. Comunque come non è i miei colleghi Morani e Nobili sono andati al ministero prima di tutto hanno fatto un lavoro enorme per poter essere ammessi fisicamente al ministero perché non li volevano fare entrare. Pur essendo parlamentari della repubblica tenete conto che noi parlamentari abbiamo la possibilità di entrare anche nelle galere, nelle carceri senza neanche avvisare. Noi parlamentari abbiamo il diritto di piggiare il citofono in un carcere qualsiasi del nostro paese e fare un'ispezione e nessuno ci può mandare via. Figuriamoci per entrare in un ministero se uno deve chiedere l'appuntamento come è stato detto ai miei colleghi. Insomma poi alla fine sono riusciti a entrare nel ministero ma naturalmente è stato detto loro che nessuna tessera è in stampa perché non c'è nessun atto sul quale si può stampare 6 milioni di qualsiasi cosa senza che ci sia una legge, uno straccio di niente. E' un costo a carico dei contribuenti che non si giustificherebbe in nessun modo. Vuoi fa Di Maio a chiamare le poste o il poligrafico dello Stato e dire stampate 6 milioni di tessere così, sulla base di una telefonata del ministro, sulla base di cosa? Però questo dimostra quanto ci si prende un po' per il naso, da un lato si potrebbe quasi parlare di ingenuità, poi si capisce benissimo che non c'è nessuna ingenuità, questa è una forma di, non so come definirla, probabilmente di mancanza di rispetto del dato di verità e anche dell'opinione pubblica, che sono a livelli estremi, si può dire tutto quello che si vuole, non importa, non c'è mai una responsabilità rispetto alle cose che si dicono, si va in televisione senza essere preparati, senza aver studiato, senza neanche avere il rispetto degli interlocutori in studio e anche quelli davanti al teleschermo che ti ascoltano e che in teoria ti rispetterebbero per l'incarico che ricopri. Stiamo parlando delle massime autorità dello Stato, la Castelli è il vice ministro dell'economia di uno dei paesi del G7, Luigi Di Maio è il ministro dello sviluppo economico della seconda potenza manifatturiera d'Europa, Luigi Di Maio è il ministro del lavoro di uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, di una delle più grandi potenze del mondo, economica in particolare, culturale, che è il nostro paese e questi ragazzi stanno, ricoprono questi incarichi senza nessuno scrupolo e senza nessuna consapevolezza o coscienza anche dell'altissimo incarico, dell'altissima responsabilità e dell'altissimo onore che comporta ricoprire quegli incarichi. Quando si sta in un ministero, qui dietro io di storia di me ho questa foto, voi vedete che dietro avevo due bandiere, la bandiera d'Italia, il tricolore e la bandiera europea. Sono simboli che non sono vuoti, sono simboli che rappresentano la lotta per la libertà di generazioni, la lotta per l'unità del nostro paese, lotte, battaglie pagate con il sangue da tantissimi giovani ragazzi, uomini, donne che hanno dato la vita perché l'Italia fosse un paese unito e libero, indipendente, sovrano, dentro una comunità pacifica di stati. Sono state idee visionarie, partorite da geni, dagli Schumann, dagli Spinelli, dagli SPAC, da grandissimi statisti e tutto questo viene dato giustamente poi come un testimone in una staffetta nelle mani di generazioni più giovani. Ma chi lo riceve e oggi è nelle mani di Castelli, Di Maio, Salvini, dovrebbe prendere questo testimone con un rispetto addirittura, secondo me, sacrale. Io non so come poterlo spiegare con altre parole. Invece vedere che tutto si è ridotto a una macchietta, al poter dire la qualunque, la qualsiasi, senza nessun timore, la faccia della Castelli che dice, ma non so se sono 5 milioni, 6 milioni alla Gruber di schede stampate e poi ve lo diremo in un altro momento, no? Ve lo diremo, ma stiamo lavorando io e Di Maio, poi ve lo diremo in un altro momento. Questa è la rappresentanza dei cittadini di cui si sono riempiti la bocca. Tu non puoi fare tu e Di Maio chiusi in una stanza e poi ci fate sapere in un secondo momento, ma di che stiamo parlando? È una cosa veramente, veramente sconcertante. Un'altra cosa sconcertante è che in questo governo, dato che, anzi, vi ricordo sempre di piggiare la freccetta condividi, mi raccomando, perché volevo passare a un altro argomento che è quello sempre sconcertante, legato al fatto che è chiaro che in questo governo non c'è unione, non c'è accordo su nulla, ma la bellezza è che ognuno fa un po' il cavolo che gli pare. Per cui abbiamo avuto questa cosa clamorosa in aula mercoledì, sapete che, se non lo sapete ve lo dico volentieri, il 10 e l'11 di dicembre si tiene una grande conferenza internazionale a Marrakesh, in Marocco, per la firma di questo documento molto importante sulle migrazioni che dovrà essere firmato, appunto, in Marocco, il Global Compact e l'Italia, nella persona del Presidente del Consiglio, ha in sede internazionale, quindi in sede ufficiale ONU, ha detto che l'Italia avrebbe firmato, anzi l'Italia è uno dei contributori al fondo che serve a far funzionare questo accordo. Ebbene, in aula Salvini dice, no, abbiamo cambiato l'idea, non è così, noi dovremmo avere un voto del Parlamento, tra l'altro non si sa neanche quando, perché questa cosa a Marrakesh succede tra pochi giorni e nel calendario non c'è spazio, che io sappia, anzi posso garantirlo, ho verificato, non c'è spazio per discutere di questo tema. E quindi il Presidente del Consiglio dice una cosa, il Ministro dell'Interno ne dice un'altra, senza consultazioni noi del Parlamento sentiamo anche qui la qualsiasi, senza capire a questo punto chi fa la politica estera del nostro Paese, perché se è il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri, perché anche Moavero aveva detto che il Migration Compact andava firmato, arriva Salvini e dice che no, vabbè. Dopodiché, sapete, ve l'ho già detto un paio di volte, credo in queste dirette, l'ho detto spesso anche in Parlamento, è apparso il sottosegretario Spadafora che ha fatto un'intervista a Repubblica 5-6 giorni fa dicendo, ah, io la penso in modo completamente diverso dalla Lega e faccio le politiche sulle pari opportunità in opposizione a quello che dice Fontana, il Ministro della Famiglia, lui dice addirittura tutto quello che io faccio è un dito in un occhio a Fontana, quindi ci si, come dire, tra colleghi di governo ci si infila le dita negli occhi e poi Spadafora dice io sono in questo governo col naso turato, che uno gli verrebbe da dire, ma dimettiti, e stura il naso. Adesso è successa un'altra cosa clamorosa ed è che ieri Roberto Fico, Presidente della Camera, ha deciso che l'Italia, anzi non l'Italia, la Camera dei Deputati, quindi neanche il Parlamento, la Camera dei Deputati, un ramo del Parlamento italiano, unilateralmente taglia i ponti col Parlamento egiziano, cioè il Parlamento italiano non parla più col Parlamento egiziano, anzi la Camera dei Deputati italiana non parla più col Parlamento egiziano. Peccato che sia una decisione del tutto simbolica, del tutto assurda, perché è assurda? Perché la politica estera è una prerogativa del governo, su questo non c'è ombra di dubbio, la nostra rete di ambasciate, il corpo diplomatico e consolare dipendono dalla Farnesina che è il Ministero degli Esteri, il quale il Ministero degli Esteri sta dentro il governo, il Parlamento può dare la fiducia al governo e può togliere la fiducia al governo, il Parlamento può votare delle risoluzioni, può votare degli atti di indirizzo, può fare degli atti ispettivi, può fare tante cose il Parlamento, ma la linea della politica estera la fa il governo. Fintanto il governo in carica è il governo italiano a decidere, quando diciamo l'Italia in tesse tiene relazioni diplomatiche con l'Egitto, vogliamo dire, il sottotesto è che il governo italiano tiene relazioni diplomatiche con il governo egiziano. La Camera dei Deputati non fa la politica estera. Ora, se Roberto Fico non è d'accordo con la politica estera del governo, la cui maggioranza lo ha espresso, lo dica. Però non è che può fare una cosa da solo, perché Roberto Fico improvvisamente fa il Ministro degli Esteri e fa la sua politica estera. Deve far girare la Camera, deve far funzionare la Camera, ma lui avrà mille modi per intervenire sul governo, può alzare il telefono, parlare col Ministro degli Esteri, può parlare col Presidente del Consiglio, avrà sicuramente colloqui frequenti col Presidente della Repubblica, potrà esprimere la sua posizione in pubblico, il suo dispiacere, la sua amarezza, la sua preoccupazione, giustamente, che va giustamente espressa per il caso Reggeni. Bisogna farlo in tutte le sedi, però dire che la Camera dei Deputati non tiene più relazioni diplomatiche con il Parlamento Egiziano è francamente ridicolo. Cioè, dal punto di vista istituzionale è ridicolo, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è il puro folclore. Siamo all'impazzimento generale. Ecco, questo non so come poterlo, anche qui, quali altre parole usare per descrivervi qual è la situazione. Va bene, io mi fermerei qui, anche perché sono le 16.16, quindi ho già occupato un minuto di più di quello che avrei voluto. Soltanto per dirvi che domani sarò a Mestre per i Comitati di Azione Civile. Per ogni ulteriore informazione potete andare sulla pagina Facebook dei Comitati Ritorno al Futuro. Sapete, c'è anche il sito comitateritornoalfuturo.it. In particolare c'è l'evento su Facebook che potete trovare, quindi domani pomeriggio sarò lì. Verrà con me Lucia De Cesaris, ex vice sindaco di Milano. Sarà anche ospite lei dei Comitati di Azione Civile di Venezia e del Veneto. Quindi appuntamento domani a Mestre se siete in zona. Vi vedo volentieri, vi saluto volentieri. Spero di riuscire a fare la diretta perché credo di dover partire abbastanza presto perché cominciamo nel primo pomeriggio a Mestre, quindi non so se riuscirò. Addirittura la faremo magari appunto dall'evento lì a Mestre. Chiederemo a Marco Caberlotto che sta organizzando che cosa ha in mente. Io mi fermo qui, comunque al più tardi ci vediamo domenica. Nel frattempo vi auguro un eccellente fine settimana. Mi scuso per l'abbigliamento un po' casual, ma insomma sono appena tornato a casa, mi perdonerete. E quindi buona serata a tutti e alla prossima. Ciao!